Trascorrere del tempo sulla mia barca è probabilmente una delle cose migliori. È un peccato però che io debba preoccuparmene ogni volta che vado via. Finalmente una soluzione che mi farà stare tranquillo. IoT Marine è un pacchetto completo che include numerose funzionalità. Prima di tutto è facile da installare e funziona immediatamente, con una connettività globale senza interruzioni. Proteggere la tua barca è la massima priorità per IoT Marine. Con una gamma di sensori wireless, come sensori per la porta, prevenzione delle intrusioni e rilevamento dei fumi. Sono inoltre disponibili sensori cablati come ad esempio il sensore a galleggiante, che rendono questo dispositivo ancora più flessibile. Il monitoraggio della sentina dell'imbarcazione, tazione della banchina, tensione della batteria, posizione della temperatura è facilissimo grazie all'utilizzo della console online. Abilitare l'allarme e la sirena è altrettanto semplice. Con il clic di un tasto inizia a ricevere notifiche istantanee via SMS e email ogni volta che viene attivato un allarme. In caso di infiltrazioni di acqua, incendi, perdita di corrente a terra, abbassamento della tensione della batteria o anche se qualcuno cerca di rubare la tua barca. IoT Marine si connette senza configurazione in qualsiasi parte del mondo. Che la tua barca sia ormeggiata, nel tuo garage o addirittura in mare aperto. Con un abbonamento annuale economico, IoT Marine è il tuo miglior compagno di yachting. Cosa chiedere di più? Rilassati e metti la tua barca al sicuro. Visita il nostro negozio online per maggiori informazioni.